Il Vampiro Saranno in sei, forse più E non è escluso che ci sia anche il Maestro Moltoia, vai, vai! Ciao, Jack! Ci sta venendo addosso! Ci hanno incastrati, sapeva il mio nome! È ora di farne fuori un po'. Dovunque andrai, ti troverò! Non riuscirai a uccidermi. Voglio chiederti una cosa. Dopo 600 anni il pistolino ti funziona sempre? È ora di farne fuori un po' Grazie a tutti.